Siamo pronti? Allora partiamo da dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via! Mi raccomando, questo è il motorino che apre la forza, però non vince niente. Ed eccolo, con il numero 230, Dico Fiorentino, il vincitore, con la gara da un chilometro, il vincitore al 166, Dico Manzi, secondo, lotto a piacere per il tempo posto, ma è andato in disconchezza, non vediamo il peccorale se può abbassare, la quattro, numero 145, Salvatore Calandante, complimenti! Grazie! 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 Ecco i che arrivano, anche gli altri, di complimenti a tutti. Vieni di qua, vieni di qua. Ovviamente anche quando chiamo di tutti. Vieni di qua. 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 Vieni di qua.